Perfetta, ma è finita in parità. Nessuno è riuscito a prevalere sul campo, ce l'hanno messa tutte, è vero, ma non sono riusciti a piazzare il colpo vincente. Eccoci qua, Luca. Allora, qual è la tua opinione sulla gara? Quando una gara finisce senza vincitori, lascia sempre un po' di amaro in bocca all'una o all'altra squadra, a volte anche a tutte e due. Io credo che oggi i giocatori in campo non si possano rimproverare più di tanto, però. Si chiude qui il nostro collegamento. Un ringraziamento a Luca Marchegiani, come sempre a mio fianco. È sempre un piacere lavorare con te, Fabio. Grazie. 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 Grazie.